C'è un'altra espressione al numero 316 di Amores Letizia che ci sorprende. Pertanto coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza per portarli ai vertici dell'unione mistica. Sono contento di leggere con voi questa espressione perché molto spesso, molto spesso nei miei contatti con le coppie sento dire sì, non abbiamo tempo, è difficile con tutte le situazioni che accadono, ma i figli, ma il marito, ma la suocera, ma la casa, ma il lavoro, quasi che ci siano delle situazioni che sono più forti della presenza del Signore Gesù. Quasi che ci sono delle situazioni dove si può stare con Gesù e delle situazioni dove non si può stare insieme perché siamo troppo impegnati. No, è esattamente il contrario. Si tratta di mettere insieme, comporre il voler stare con Gesù dentro la croce, dentro il nervosismo, dentro il mal di pancia, dentro la tensione, dentro il muso, dentro la durezza, dentro starci dentro per offrirlo, per viverlo con pazienza, per cercare di reagire, stare con il Signore dentro tutte le situazioni e usare tutte le situazioni per stare dentro con il Signore. Per cui allora certo non ci sarà più nessuna situazione che impedisce anche alle coppie di raggiungere un'unione mistica con il Signore.